Scusami tanto per prima, non fa niente, mi chiamo Mia, Dorothy, che nome carino, allora Dorothy cosa fai? Faccio il curriere in bici alla zonconi, sembra divertente, e così sei la nuova ragazza di Dati? Non esattamente, e chi sei esattamente? In realtà, mi chiamo Max, ora sono in missione per conto di solo occhi, che tipo di missione? Dovrei mettere Dati incontro alla famiglia Sparacino e individuare il boss per solo occhi, è uno scoop del secolo, sembra davvero eccitante, ma Max, devo stare molto attenta, è gente pericolosa, questo lo so, sono geneticamente potenziata, so cavarla, stai scherzando? No, vengo dimenticato, ho coperto il mio codice a base, wow, anch'io, sono una psicooperativa, e di che serie sei? Sono un maserine X, fantastico, allora Max, visto che ci stiamo confidando come due amiche del cuore, perché non mi dici chi è in realtà solo occhi, c'è una cosa di cui vorrei parlargli? Non posso, non lo tradirò, te lo prometto, mi dispiace, allora va bene, non dispiacerti, ma per stasera dimentica Dati, ok? Va subito a casa a riposarti, infatti, mi sono un po' starca, ho parlato di te, oh, non ti ricorderai più niente, ricordami che, ricordati il naso, eh?